Oggi parlerò della tomba di Papa Leone XI al secolo Alessandro de' Medici nella basilica di San Pietro in Vaticano, il quale fu eletto all'età di 70 anni il primo aprile 1605 e fu pontefice per soli 27 giorni, uno dei pontificati più corti della storia. Fu incoronato il 10 aprile, prese possesso del laterano nel pomeriggio del 17 e proprio in quell'occasione prese freddo e si ammalò morendo pochi giorni dopo il 27 dello stesso mese. Ricordato come esempio di carriera percorsa salendo scalino dopo scalino e rispettando i propri principi e il collegio dei cardinali. Favorì con cittadini ma non i familiari, sul letto di morte fu incalzato poiché concedesse la porpora al nipote Ottaviano de' Medici ma si rifiutò sostituendo addirittura il confessore che aveva caldeggiato la candidatura. Sarà sepolto in San Pietro dove oggi nella navata sinistra vediamo il suo monumento commissionato dal pronipote il cardinale Roberto Ubaldini opera di Alessandro Algardi. I lavori si protassero fino al 1644 a causa della morte del cardinale avvenuta nel 1635 si interruppero e fu definitivamente collocato nel 1652. Alla base del monumento un'iscrizione del cardinale Ubaldini dice riempì il mondo cristiano di una breve letizia e lasciò un lungo pianto di anni. Il papa in abiti pontificati siede sul trono il quale sul sarcofago che rega sulla fronte un bassio rilievo con due episodi della sua vita ante elezione. Abbiamo a sinistra la ratifica della pace di Vervenne del 1598, a destra la riconciliazione di Enrico IV di Francia con la chiesa cattolica 1596. Le statue. A sinistra c'è la magnanimità di Giuseppe Perone, a destra la liberalità di Ercole Ferrata. Alle loro basi c'è un certo di rose con la scritta Sic Floruit così fiorì e in cima due angeli sostengono lo stemma medicina. Qui concludo alla prossima.